Testi classici, maestri della scena ed esperienze di comicità intelligente e mai volgare animano il cartellone 2009-2010 del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, composto da sei appuntamenti da novembre ad aprile. Si comincia con il divo di Gomorra, Tony Servillo, che il 14 e 15 novembre aprirà la stagione con Trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni, un testo affascinante che racconta la triste educazione sentimentale di quattro giovani. Il 17 e 18 dicembre torna uno dei maggiori successi della scorsa stagione, La passione secondo Luca e Paolo. Le due iene televisive, Luca Bizzarri e Paolo Chessisoglu, raccontano tra ironia il mistero della vita. E poi ancora Filomena Marturano, tra le commedie di Edoardo la più rappresentata in tutto il mondo, straordinaria pièce teatrale proposta al pubblico ascolano il 5 e 6 marzo, nell'interpretazione dell'erede del grande drammaturgo partenopeo, il figlio Luca, e di una signora della scena, la grande Lina Sastri. Dal dramma all'erisa con Enrico Brignano, che il 27 e 28 marzo darà vita al suo recital, uno spettacolo esilarante e ricco di gag. Il 15 e 16 aprile sarà la volta di una proposta di qualità dal territorio, con Archeo Cabaret, della compagnia Sinergie Teatrali, diretta dal regista ascolano di adozione Stefano Artissunk. In scena anche la bella Deborah Caprioglio. La conclusione della stagione, il 28 e 29 aprile, è affidata ad un altro momento di comicità con «Italiani si nasce e noi lo nacquimo», un divertente racconto di Maurizio Micheli e Tullio Solenghi sugli italiani attraverso caratterizzazioni, trucchi, dialetti e travestimenti. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. E la corsa all'abbonamento partirà sabato 17 ottobre, per chiudersi venerdì 23. E la corsa all'abbonamento partirà, per chiudersi venerdì? E la corsa all'abbonamento partirà, per chiudersi venerdì? Grazie a tutti